Top al femminicidio. Le testimonianze e i drammi coinvolgono gli studenti teramani. Regione ed Alfonso non promulga la delibera sull'anticipo del TFR e i consiglieri. Strice blu a Teramo non piace alla Tercop, la gestione dei parcheggi al comune. Viabilità e il guado sul Tordino opera infinita, il sindaco bacchetta i vertici della Teramo Ambiente. E per lo sport calcio il Teramo in ansia per Serraiocco e Lulli rischiano di saltare la trasferta di Lucca. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Apriamo parlando del Consiglio regionale. Il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, non promulga la delibera che prevede l'anticipazione del pagamento del TFR, il trattamento di fine rapporto, per consiglieri e assessori regionali. Dopo la pubblicazione della notizia sul settimanale L'Espresso, nell'ultimo numero, si erano sollevate molte polemiche e il Presidente della Giunta regionale abruzzese, D'Alfonso, che nel Consiglio regionale in cui si approvò la delibera era assente, aveva subito dichiarato che non avrebbe dato corso a questa iniziativa. Oggi l'ufficialità del provvedimento. Infatti, si legge che il Presidente della Giunta regionale abruzzese decreta di non promulgare la deliberazione consigliare numero 10 dell'11 novembre 2014, avente ad oggetto legge regionale modifiche alla legge regionale del 31 agosto del 78, del 10 agosto 2010 e poi del 13 gennaio 2014, con la quale viene disposta, tra l'altro, l'anticipazione del pagamento del TFR e poi di rinviare la predetta disposizione legislativa al Consiglio regionale unitamente al presente decreto e di pubblicare il presente decreto sul Burat e sul sito istituzionale della Regione, affinché i portatori di interesse possano agire nelle opportune sedi per l'eventuale relativa tutela. Le testimonianze del regista Marco Risi e dello scrittore Andrea Carraro sul film Il Branco, insieme a un contributo reso dalla senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopani su una storia di violenza, hanno animato la giornata di riflessione all'università promossa dal centro Anna Arendt. Nel corso dell'iniziativa, alla presenza degli studenti, si è ribadito che la cultura della prevenzione è più efficace della repressione. Vediamo il servizio. La giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne, un appuntamento significativo qui all'università, innanzitutto perché la sala, l'aula magna è piena. L'aula magna è piena e questo dimostra quanto sia importante discutere su questo tema. Mi fa piacere che sia piena l'aula magna perché quella violenza, anche la violenza sulle donne, è un gesto di inciviltà e di incultura che credo vada non solo combattuta con la repressione ma vada in qualche modo prevenuta con una preparazione. Il presidente della provincia, Renzo Di Sabatino, ha portato dei dati significativi a questa giornata di impegno contro la violenza sulle donne. Sono quelli del centro La Fenice? Sì, abbiamo fatto una verifica. Dal 2009 ad oggi abbiamo ascoltato 1025 donne e prese in carico 366 in quanto meritevoli di attenzione in quanto comunque vittime di violenza fisica o psicologica. Il dato anche importante è che di queste persone il 75% sono italiani. Purtroppo la violenza è dentro le case, è quella più insidiosa perché è quella che non si riesce a sconfiggere in quanto riguarda a volte il padre sulla figlia, il marito sulla moglie, il fratello sulla sorella. Io sono stata vicina a una famiglia che viveva una condizione drammatica che poi ha avuto un epilogo tragico perché l'uomo quando ha capito che moglie e figlia reagivano e si rivolgevano ai servizi sociali e andavano magari finalmente a denunciare gli abusi ha reagito uccidendo. E quindi sono molto colpita dal fatto che ancora oggi nonostante le battaglie, le conquiste, i diritti acquisiti le leggi che comunque si sono rafforzate, sono più punitive e c'è ancora tanta violenza che riguarda fatti eclatanti, violenza di gruppo perpetrata verso ragazzine, studentesse o come in questo caso violenza all'interno della famiglia. Cambiamo argomento. Un percorso atteso da molti e non solo dal personale della Teramo Ambiente che ha bisogno del guado di contrada Carapollo a Teramo per non essere costretto a un lungo giro per raggiungere le zone di raccolta dei rifiuti. L'attraversamento del fiume Tordino resta una incompiuta perché mancano le rampe di raccordo alle due sponde. Il sindaco di Teramo Bacchetta la dirigenza della Team e chiede provvedimenti e che si chiariscano le responsabilità. Vediamo il servizio. Io già ho chiesto all'amministratore delegato, ma voglio sapere, come ho chiesto di verificare e eventualmente di prendere anche provvedimenti nei confronti del dipendente o del RUP che si sta occupando di questo benedetto guado. Come è possibile fare un guado e non provvedere due rampe di raccordo? Io mi dico questo perché di questo si tratta. Bisogna raccordare il guado alle due strade. Adesso mi hanno detto che bisogna fare due rampe, raccordare con l'asfalto, qualsiasi cosa bisogna fare. Bisogna muoversi perché questo sta determinando una greve delle coste e io ho chiesto espressamente all'amministratore delegato di verificare. Adesso si tratta anche di una soluzione intermedia perché un guado ovviamente non è un ponte. Su questo torniamo un po' all'antico. Io avevo detto che bisognava fare il ponte, poi si è deciso di fare il guado. Io sono il socio della TAM, non sono l'amministratore della TAM, quindi voglio dire che non è che ci sono degli amministratori. Si è deciso di fare il guado, va bene. Intanto apriamolo, apriamo questo guado. L'ho ribadito l'altro giorno all'amministratore e al Presidente. Intanto apriamo il guado. Quello che c'è da fare facciamolo velocemente perché non è più possibile che aspettare tutto questo tempo perché poi questo determina anche una greve di costi perché poi i mezzi devono fare il giro. Nel frattempo noi abbiamo programmato l'utilizzo di fondi regionali per fare un ponte, un vero ponte lì, però parlo come Comune di Teramo, perché lì la viabilità è una viabilità diciamo importante per tutti quelli che vengono da quella zona del territorio. Restiamo a Teramo. L'ipotesi che il Sindaco Maurizio Brucchi ha lanciato su una gestione diretta degli stali a pagamento da parte del Comune non convince Leo Iachini, il Presidente della Tercop, la cooperativa che attualmente gestisce il servizio. Al di là delle perplessità sul rischio dei posti di lavoro per i dipendenti, Iachini contesta i numeri resi dal Sindaco sul ritorno economico dell'operazione. Il Comune ha le prese con le difficoltà di bilancio, ha infatti necessità di ripensare e ciò può mettere a rendita. E la prima idea sulla quale l'amministrazione sta facendo una valutazione è quella di una sorta di internazionalizzazione del servizio dei parcheggi. Da uno studio rimesso sul piano economico e finanziario di un'eventuale gestione diretta degli stali è emerso infatti che i ricavi ammonterebbero a circa 1 milione e 600 mila euro, una somma annua che il Comune ha calcolato per approssimazione prevedendo un euro a ora per quattro ore al giorno per gli oltre mille stali a pagamento. Una cifra che ingolosisce il Comune di Teramo che sta cercando di trovare la soluzione amministrativa che gli consentirà di gestire direttamente il servizio posto che la fornitura dei parchimetri e il personale per il funzionamento passerà per un affidamento a evidenza pubblica. Per Iachini della Tercop l'operazione ha un ritorno economico decisamente inferiore a quelle prospettate, tanto da bollare le cifre rese dal Sindaco come numeri all'otto. Lo abbiamo intervistato, sentiamo. C'è preoccupazione all'interno della Tercop dopo quello che si è detto al conclave di maggioranza dal centrodestra e al Sindaco Brucchi. Sì, la preoccupazione c'è anche perché sono usciti dei numeri che non è il caso nemmeno di definire i numeri dell'otto, perché all'otto magari qualche volta escono dei numeri, in questo caso invece sono numeri veramente incredibili. non so questi studiosi come hanno ipotizzato in Troiti fino a un milione e sei. Basta considerare che noi gestiamo attualmente... che il Comune gestisse in proprio, vero? Sì, gestiamo. Noi attualmente circa 500 stalli che sono tra i più usati perché sono nelle posizioni strategiche in centro storico e con i prezzi più alti per consentire un maggior ricambio. Con altri 500 stalli da individuare e in ogni caso più esterni, con tariffe si dice pure agevolate, quindi da questi conti risulterebbe che con altri 500 stalli incasserebbe il Comune altri circa 900 mila euro, cioè noi con gli 500 stalli più produttivi incassiamo 700 mila e con altri 500 stalli meno, molto meno produttivi il Comune incasserebbe quasi un milione di euro. È incredibile, questi conti onestamente non so da che parte vengono. Noi invece abbiamo fatto ancora una proposta che vogliamo, ribadiamo, dove ci impegniamo a riversare tutti gli utili reali ovviamente dai prossimi parcheggi in lavori utili all'amministrazione comunale. Quindi questa proposta realistica che facciamo noi ancora non abbiamo una risposta, mentre ascoltiamo dei numeri oggettivamente a dir poco strani. Il conclave La Montagna ha partorito un topolino, così i gruppi consigliari d'opposizione definiscono l'esito del ritiro della giunta Brucchi a Gualdo Tadino, che ha dato impulso al via libera, ai provvedimenti sul traffico e sui sensi unici in barba, secondo l'opposizione in Consiglio Comunale a Teramo, alle richieste di partecipazione dei cittadini teramani. Il conclave, si legge nella nota diffusa, non ha aggiunto nulla di nuovo al dibattito politico di queste settimane, ma è stato solo una cassa di risonanza alle insanabili divergenze fatte passare per approfondimenti, dove le rumorose assenze sono state coperte da imbarazzate giustificazioni. In merito al futuro della Tema, l'opposizione giudica tardivi i provvedimenti e le valutazioni sui costi e sullo stato economico della società, ma altrettante perplessità sollevano i consiglieri su un piano urbano del traffico, che in assenza di atti chiari e definiti crea disorientamento nella cittadinanza espulsa dal confronto nelle sedi istituzionali, così come per la gestione dei parcheggi sul territorio sul futuro della Tercop. Nulla si è detto sulla necessità di un piano per la riduzione della pressione tributaria in una città in cui la tasi è tra le più pesanti d'Italia, in cui, secondo il Sole 24 Ore, la tassazione sull'abitazione principale è aumentata del 108%. L'opposizione teramana interviene anche contro il silenzio sulla revisione del sistema di trasporto pubblico locale e parla di giunta commissariata dalla società che gestisce il servizio, tanto da poter decidere ad esempio quali corse mantenere e quali sopprimere, come dimostrano le recenti prese di posizione che nel silenzio di chi ci amministra penalizzano, tra gli altri, i residenti di Via De Albentis e gli studenti universitari. Arriva un nuovo parco giochi nell'area di Porta Madonna a Teramo. Il Comune domani allestirà l'area nuova per i bimbi, garantita in termini di sicurezza anche da telecamere di sorveglianza. Nel frattempo novità sono in arrivo anche per Via Diaz. Vediamo il servizio. Saranno installate domani mattina le attrezzature del nuovo parco giochi a Porta Madonna che l'amministrazione comunale ha realizzato con 80.000 euro di fondi derivanti da un piano integrato. Già da questa mattina si sta provvedendo a collocare la breccia che separerà le diverse aree ludiche, dove domani verranno montate le nuove strutture da gioco nuove, di cui una dedicata ai bimbi diversamente abili. Tutte saranno dotate di tappetini antitrauma e l'area sarà monitorata da telecamere di videosorveglianza. I giochi rimossi dall'area del Tribunale sono stati donati dal Comune al carcere di Castrogno per allestire un'area di accoglienza per i minori in visita ai familiari dei detenuti. Un progetto analogo riguarda Via Diaz, dove tuttavia i tempi di realizzazione sono più lunghi. Per il nuovo parco bisognerà attendere circa due anni. Nel frattempo il Comune, con uno stanziamento di 14.000 euro concesso dal BIM, provvederà a dotare nell'immediato il nuovo parco di quattro nuovi giochi, in sostituzione dell'unica attrezzatura pericolante al momento esistente e sulla quale si intrattengono i tanti bambini in uscita dalla scuola materna e dalla scuola dell'infanzia. Una notizia di cronaca. Ieri il personale del distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova ha proceduto alla notifica dell'ordinanza della misura di custodia cautelare in carcere ad Anacleto Di Giorgio, quarantenne di Giulianova, già detenuto presso la locale casa circondariale per altri motivi, responsabile del reato di estorsione. Le indagini esperite hanno consentito di appurare che Di Giorgio, in più circostanze e con minacce, aveva storto denaro a più persone, tra cui titolari di esercizi commerciali della zona. Cambiamo argomento. La stagione scistica invernale sul Gran Sasso è fortemente a rischio dopo che la gara per la gestione è andata, deserta per la gestione degli impianti di risalita. Il presidente della provincia, Renzo Di Sabatino, è deciso sul punto. Bisogna aprire comunque gli impianti, dice, a costo di abbassare il canone. E tra gli operatori è diffusa la sensazione che una soluzione può arrivare da una collaborazione aperta con Siget e proprietà. Abbiamo avvicinato Gino Montauti, rappresentante di una storica famiglia di albergatori di Pietracamella e dei prati di Tivo. Vediamo. Presidente, si sblocca la situazione dei prati di Tivo? Io spero di sì. Oggi avrò un incontro con l'amministratore e il direttore della società Gran Sasso per valutare le iniziative immediate da prendere. L'input qual è? L'input è quello che la stagione deve partire, quindi troveremo le forme opportune affinché possa essere assicurata stagione invernale. Anche rinunciando al canone, che significa che può partire subito? Noi abbiamo come amministratori pubblici, sia io ma anche gli amministratori della società, Gran Sasso il dovere di guardare anche agli interessi di una società pubblica che ovviamente amministra somme dei cittadini. Quindi verificheremo i vari interessi in gioco e cercheremo di prendere la soluzione più opportuna. Signor Montauti, è possibile una gestione diretta della Gran Sasso con il vostro aiuto, quello degli imprenditori storici, della Siget, per far ripartire gli impianti? Sì, secondo me è la soluzione più giusta, anche perché tutti gli albergatori e gli operatori turistici che hanno creduto nello sviluppo di quel territorio bello, prezioso della provincia di Teramo praticamente sono interessati a che le cose vadano bene. Però un canone alla Gran Sasso Teramano andrebbe riconosciuto. La gara è andata deserta, a 250 mila euro evidentemente nessuno ha risposto perché hanno ritenuto troppo esosa questa richiesta. Ci sarà questo accordo? Io penso di sì, perché lasciare un impianto che è il terzo impianto in Europa, abbandonato, con i danni conseguenziali, è impossibile, anche perché noi siamo appesi a un filo, non sappiamo cosa rispondere a chi vuole prenotare per le vacanze oltre. Non si può pretendere somme grosse, dopo se le cose andranno bene, la crisi si alleggerirà, speriamo potremmo pagare di più, però l'unione di intenti tra gli albergatori, gli operatori turistici, questa unione fa sì che si riparte. I dati diffusi dall'azienda Stauro sull'affluenza dei passeggeri sulle linee 6 e 7 a Teramo, numeri che per il presidente dell'azienda di trasporto pubblico non giustificano la necessità di corsi aggiuntive, non convincono gli studenti universitari che parlano di controlli farsa sulle linee che conducono al campus di Coste Sant'Agostino. L'Unione degli Universitari di Teramo, Ludu, ritiene, inverosimile e pretestuoso da parte dell'azienda, da fare dei controlli sulla reale condizione di sovraffollamento che quotidianamente affliggerebbe gli utenti in un giorno che ha degli orari, e ha degli orari che già si sa essere affollati sì, ma non al punto da destare preoccupazioni. La problematica che solleviamo da tempo, spiegano in una nota gli universitari, è riscontrata non solo dagli studenti, ma anche dai cittadini teramani, dagli stessi autisti. Non accettiamo che l'azienda erogatrice del servizio liquidi così brevemente la questione con un misero controllo farsa. Ludu invita l'azienda a ripetere i controlli negli orari segnalati come critici dagli studenti che finiscono di essere lasciati a piedi. Ci risulta che i controlli siano stati effettuati di venerdì, una giornata tradizionalmente fiacca sui numeri dei passeggeri a bordo, poiché molti studenti ripartono per il weekend. Chiediamo, prosegue la nota dell'Udu, all'azienda di ripetere i rilievi nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì mattina, nelle ore critiche che precedono l'inizio dell'elezione, ovvero 8.30, 10.30 e 12.30. Ci dispiace infine segnalare la sordità dell'amministrazione comunale di Teramo, la quale non ha sentito ancora una volta il dovere di esprimersi su un'annosa problematica. Non vorremmo dover interpretare il silenzio come un assenso alla presa di posizione dell'azienda di trasporto. Gli studenti ribadiscono che non molleremo la presa, fino a chiedere una conferenza servizi che veda coinvolti da un lato l'amministrazione e dall'altro gli studenti e l'azienda dei trasporti cittadini. È stato provocato dalla rottura della orta il decesso dell'imprenditore di le 71enne di Pineto, Fernando Ameli, avvenuta nella sua abitazione a poche ore di distanza dalla dimissione dall'ospedale di Atri. È quanto avrebbe stabilito l'autopsia che il magistrato Andrea De Feis ha disposto per chiarire la dinamica della vicenda dopo la denuncia dei parenti del paziente deceduto. Secondo quanto riferito dagli stessi, l'uomo si era recato al pronto soccorso dell'ospedale di Atri perché lamentava dolori alla testa, ma dopo la vista dei sanitari era stato dimesso. Nella notte a casa un malore fatale e quindi il decesso. Nel fascicolo aperto dal magistrato si ipotizza l'omicidio colposo nei confronti di tre medici dell'ospedale San Liberatore atto previsto per lo svolgimento dell'autopsia in cui i professionisti potevano nominare consulenti di parte nell'attività d'indagine. L'inchiesta tende ad accertare se nel corso della valutazione del paziente ci sia stata negligenza o colpa medica oppure se la morte successiva al ricorso alle cure del pronto soccorso siano stata una fatale coincidenza. Il magistrato all'esito dell'autopsia eseguita dall'anatomo patologo Cristian Dovidio ha concesso il nulla osta per la celebrazione dei funerali. Vincenzo Di Nanna è stato confermato nella giunta nazionale della segreteria dei radicali italiani. Vincenzo Di Nanna, avvocato teramano impegnato in particolare sui temi della riforma della giustizia e per l'amnistia della difesa dei diritti degli ultimi a sostegno delle minoranze e anche al centro dell'azione per la liberazione del teatro romano che nel centro di Teramo è da anni parzialmente coperto da costruzioni prive di pregio. Nel giorno del raduno della scuola calcio Gaetano Bonolis-Teramo sono stati oltre i 40 ragazzi che sono scesi in campo presso lo stadio di Piano D'Accio, ospite d'eccezione, responsabile del settore giovanile della Roma e campione del mondo dell'82, il popolarissimo Bruno Conti. Vediamo il servizio. Un gran bel evento, quello andato in scena ieri allo stadio Bonolis di Piano D'Accio. Circa 40 ragazzi della scuola calcio Gaetano Bonolis-Teramo, nati negli anni 2001 e 2002, sono scesi in campo sotto gli occhi vigili degli addetti ai lavori dell'AS Roma. I ragazzi, accolti dal dirigente responsabile Federico Carboni e coordinati in campo dai tecnici Luca Di Domenico ed Antonio Luzzi, hanno giocato per oltre due ore e taccuino alla mano ogni osservatore ha appuntato qualcosa. Alle 18.30 l'evento invece si è spostato presso la sala cerimonia del circolo Teramano. L'FC Gaetano Bonolis-Teramo, insieme all'AS Roma, hanno accolto autorità e aziende partner. Una serata per ringraziare tutti quelli che hanno creduto e continuano a credere nel progetto targato FC Gaetano Bonolis, come ha sottolineato il responsabile marketing Federico Carboni. L'incontro ha visto oltre la partecipazione dei soci fondatori Massimo D'Aprile, Antonio Luzzi e Luca Di Domenico, anche quella degli assessori al comune di Teramo, Francesca Lucantoni e Giorgio Di Giovan Giacomo. L'ospite d'eccezione è stato sicuramente il campione del mondo Bruno Conti, attuale responsabile del settore giovanile romanista. A lui e a Marco Albergati, responsabili degli osservatori della Roma, sono stati consegnati targhe riconoscimento. Si sono detti soddisfatti Luca Di Domenico ed Antonio Luzzi, responsabili dei tecnici del Raduno. Stiamo lavorando veramente bene, hanno detto. Ci preme ringraziare tutte le società che hanno dato la loro disponibilità per il Raduno. Bisogna continuare su questa linea, cercando sempre di migliorarsi. A chiudere, le parole di Bruno Conti, che ha detto Abbiamo trovato un'organizzazione importante in questa società, con fido nella preparazione dei tecnici e dei responsabili. Onestamente, credo possa dare ottimi risultati, considerando che ci sono persone che amano veramente questo sport. Applausi più che meritati per Bruno Conti. Biglietti esauriti, dunque posti in sala assegnati per l'ingresso alla manifestazione Pigro. Omaggio a Ivan Graziani in programma al Teatro Comunale di Teramo il prossimo 4 dicembre. Il Comune di Teramo precisa che la nuova normativa che regola l'accesso nel teatro disciplina rigidamente gli ingressi, per cui non sarà possibile entrare senza il biglietto. Non è escluso che nel caso di defezione dell'ultima ora possano rendersi disponibili alcuni posti, ma l'organizzazione declina ogni responsabilità. Qualora chi volesse comunque provare ad accedere senza possedere già il biglietto, si trovasse poi nell'impossibilità di farlo. E adesso è arrivato il momento della rubrica di Giancarlo Falconi. di Carta Canta. Vediamo. Tutti noi ce l'apprendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco seria quando parla di sinistra-destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra-sinistra, 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 basta. Destra-sinistra, destra-sinistra, destra-sinistra. Ha restituito intorno ai 50 mila euro, 25 mila euro, adesso non mi ricordo bene. Perché a Ruzzo l'inchiesta ancora non ha portato a individuare quelli che sono i soggetti che hanno portato al nostro acquedotto ad avere circa 94 milioni di euro di debiti nel 2012? Lettura data dal Collegio dei Revisori dei Conti. Io ricordo il direttore Cameli, il direttore di Cursi. In quel periodo il Ruzzo acquistava anche i buoni del tesoro dello Stato. Aveva parecchi soldi, metteva da parte. Perché siamo arrivati a 94 milioni di euro di debiti? I cittadini terramani hanno, oltre a pagare le bollette, il diritto di sapere perché abbiamo avuto 94 milioni di euro di debiti. Ora in questo momento il Presidente del Ruzzo, Forlini, sta cercando con un serio piano industriale e anche con una rivistrazione della pianta organica di tornare a galla. Voliamo, partiamo. Andiamo in Romania e in Montenegro. Perché la Ruzzo Reti è una società, lo sapete, in liquidazione dal 2007. Che cosa faceva questa società non si sa. Però con i soldi nostri ha fatto quello che noi non sappiamo. Si chiama Idros SRL. È una società che ha delle quote nella AET Invest, che si trova in Romania. Dentro questa società il Presidente è l'ex direttore del Ruzzo, Alfonso Cucudrillo. E poi chi c'è dentro l'AET Invest? Abbiamo fatto una ricerca, Presidente, AET Invest, esce un certo Marco Verticelli. Sembra il nome a noi conosciuto. Vi ricordate? Forse un consigliere regionale del Partito Democratico, un assessore regionale. Già. Ci piacerebbe scambiare anche delle chiacchiere con lui. Andiamo avanti, andiamo a leggere lo statuto, andiamo a leggere altri componenti. C'è un certo Vittorio Beccaceci. Forse un imprenditore di Mociano. Ritorna questi strani nomi che si collegano, che si stringono, che si abbracciano. Sì, ma che faceva la Idros SRL? Non lo sappiamo. Siamo andati a vedere delle quote che ha in una società in Montenegro. Sì, ma questa società che fa? Allora, l'AET Invest fa pubblicità, marketing. Questa società faceva acquedottistica. Quindi sembra quasi un affare importante per portare dei soldi al Ruzzo. No. Abbiamo letto l'unico bilancio che è presente, un bilancio del 2001. E praticamente sono solo costi. Noi abbiamo solo pagato i fitti, le spese amministrative, perché ci sono le spese di trasferta, le spese di rappresentanza. E ora ovviamente abbiamo messo tutto in liquidazione. Ma è possibile? È possibile che noi non possiamo sapere, noi che paghiamo le bollette al Ruzzo, non possiamo sapere come si è arrivati ad avere 94 milioni di Euro di debiti? Questa è solo la prima puntata. Seguiteci per le prossime. Carta canta. E adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore con Meteoteramo.it Previsioni per oggi in Abruzzo. Nel pomeriggio sereno lungo la dorsalia appenninica, sereno sui settori orientali. In serate nella notte è sereno sui settori interni e sui rilievi, sereno sui settori marittimi. Temperature stazionarie, massime e comprese tra 16 e 19 gradi nelle conche aquilane marsicane, tra 19 e 22 gradi sulle pianure adriatiche. Venti assenti o deboli settentrionali, mari calmi. In provincia di Teramo, dal pomeriggio fino a notte, cielo in prevalenza sereno. Temperature stazionarie, massime e comprese tra 17 e 20 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 18 e 21 gradi sulle coste. Venti assenti o deboli settentrionali, mari calmi. Il calcio di Lega Pro in apertura. Quest'oggi in casa Teramo Calcio è prevista una doppia seduta di allenamento. Mister Vivarini deve valutare le condizioni di tre elementi. Diachite, Lulli e Serraiocco. Diachite è uscito malconcio dal match di Pontedera, mentre Lulli e Serraiocco sono ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. I due giocatori rischiano di dover saltare anche la trasferta di Lucca in programma sabato prossimo alle ore 15. Lucchese Teramo sarà diretta da Andrea Morreale di Roma 1, mentre l'Aquila Pistoiese è da Marco Piccinini di Forlì. A proposito della Lucchese, Acque agitate in casa Lucchese, prossimo avversario del Teramo in campionato. Nello scorso weekend i calciatori della squadra toscana sono stati al centro di due distinti fatti di cronaca. Il primo ha visto protagonista l'attaccante Jonathan Alexis Ferrante, che domenica notte è stato malmenato da tre balordi nel centro di Roma. I tre, fermati e processati per direttissima, hanno poi ammesso di aver scambiato il calciatore per un'altra persona. Nella stessa notte si è verificato il secondo episodio che ha visto protagonisti altri quattro giocatori, la cui identità non è stata resa nota dalla società toscana. I quattro sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Alla luce di quanto accaduto però, la dirigenza ha deciso di prendere provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti, perché gli stessi sono venuti meno al rispetto del regolamento interno. Nel campionato di calcio di promozione, domenica Mara per il Castellalto, che nel girone A è stato scavalcato in vetta dal Morro d'Oro. Nel girone B invece continua la lotta a distanza tra la capolista Valdisangro e l'inseguitrice Passo Cordone. Con questo servizio facciamo il punto sull'ultimo turno di campionato in promozione. Nel campionato di promozione, domenica scorsa si è giocata la dodicesima giornata di andata. Nel girone A è cambiata la vetta della classifica. Adesso è primo il Morro d'Oro, che nell'ultimo turno ha battuto 1-0 il Tossicina. Vittoria che i morresi sono riusciti a raccogliere per l'ennesima volta sul finale, questa volta grazie alla rete realizzata da Colle Vecchio. La scuola di Mister De Eugenio ha strappato così tre punti preziosi, scavalcando a primo posto il Castellalto, che è caduto a domicilio contro il Santomero. Anche in questo caso è finita 1-0, decisivo un calcio di rigore di Pezzoli siglato inizio di ripresa. Tra le grandi del torneo, bene anche il Ponte Romano, che grazie alla tripletta di Salvi ha espugnato per 3-0 il terreno del Cologna. In atteso passo falso invece per il Cerchio, superato di misura dal Poggio Barisciano. 1-0 firmato da Ciccozzi, che tra campionate e Coppa ha messo così a segno il terzo gol in appena otto giorni. In coda invece muove la classifica il Tortoreto, che nell'anticipo di sabato ha pareggiato 0-0 col Mociano. Con il punto conquistato, gli Adriatici sono saliti a quota 4, agganciando all'ultimo posto il Balzorano, che è stato sconfitto in casa dal Fontanelle. Nel girone A è cambiata la capolista, nel girone B invece si è confermata in testa la Val di Sangro, che ha schiantato il Lauretum. Partita già chiusa prima dell'intervallo dalla doppietta di Mainella e dalle reti di Beniamino e Tano. Nella ripresa poi è arrivata anche la doppietta di Di Marco, che ha fissato il punteggio sul definitivo 6-0. Dietro è riuscito a tenere la scia il Passo Cordone, 2-0 al Fara San Martino, mentre ha rallentato il Castello 2000, che è stato così agganciato al quarto posto dalla Folgore di San Buceto. Nelle retrovie invece è rimasto tutto invariato, visto che oltre al Lauretum hanno perso anche Scafa e Goriano Sicoli, ossia le ultime tre squadre che chiudono la classifica. E adesso passiamo alla palla a mano. In Serie 1 femminile pronto riscatto per la Globo Allianz Teramo. Le ragazze di Settimio Massotti hanno battuto 24-22 la Riosto Ferrara, ipotecando la qualificazione ai play-off Scudetto. La Globo Allianz Teramo torna subito alla vittoria e riscatta la sconfitta nello scontro diretto per il primo posto di sette giorni fa a Conversano. Batte la Riosto Ferrara con il punteggio finale di 24-22 al termine di una gara molto combattuta. D'altronde Ferrara si presentava a Teramo fresca di cinque vittorie consecutive e rilanciata in piena zona Pul Scudetto. Teramo riesce a vincere nel secondo tempo grazie alla mossa tattica di Settimio Massotti. Difesa 4-2, Ferrara va in tilt e le bianco-rosse riescono a portare a casa tre punti importanti che confermano proprio la Globo Allianz Teramo al secondo posto in classifica. Avvio tutto ospite con Ferrara avanti di due gol in avvio di partita sul 2-4. Primo pare al tredicesimo sul 4-4. Primo vantaggio Teramana al ventisettesimo sul 9-8. Intervallo 9-10 in favore di Ferrara. Nel secondo tempo cambia la musica con Settimio Massotti che mette la 4-2 in campo. Teramo recupera e al nono è già sul più 3. 15-12. Più 3 confermato al dodicesimo sul 16-13. Al diciassettesimo sul 18-15. Al ventiduesimo sul 20-17. Il più 4 viene toccato al ventitresimo sul 21-17. Ribadito al ventiquattresimo sul 22-18 per concludere sul 24-22 finale. Per quanto riguarda le realizzatrici in casa Globo Allianz Teramo. Miglior realizzatrice Daniela Palarie con 13 reti. A seguire Belen Canessa con 3. Gioia con 4. Daniela Canessa con 3. E Pastor con 1. Tra le fila della Riosto Ferrara. Miglior realizzatrice Neli Dobreva con 6 reti. Diciamo che se pecchevamo meno di incendietà in alcuni uno contro uno di alcune giocatrici poteva rendere ancora di più. È normale che la loro squadra si fonda tantissimo sulla loro bulgara che è una forte tiratrice e sul centrale che è una mente. Dunque eliminando il braccio e la mente effettivamente ci hanno regalato diversi palloni e ci ha permesso di andare avanti e di gestire tranquillamente la gara. E con questo servizio si chiude anche questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che l'appuntamento si rinnoverà questa sera sempre in diretta alle 19.15. Grazie, buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie, buon proseguimento di giornata.